se vivi con un felino saprai perfettamente che ha capacità incredibili che possono sorprenderci quotidianamente pertanto in questo video di animalpidia spiegheremo settabilità uniche dei gatti da non perdere flessibilità dell'elasticità i gatti hanno una grande flessibilità dell'elasticità grazie alla loro struttura ossea un gatto adulto sano ha circa 244 ossa quasi 40 ossa in più dello scheletro umano inoltre i loro dischi intervertebrali sono più spessi dei nostri questa combinazione consente ai gatti di avere abilità come passare per luoghi molto stretti fare acrobazia aeree e saltare distanze che superano 5 6 volte la lunghezza del proprio corpo equilibrio eccellente una delle caratteristiche più particolari del gatto è il suo sensazionale senso dell'equilibrio di molto maggiore rispetto a quello dell'uomo che gli consente di muoversi anche sui passaggi più arditi e impervi con una sicurezza superiore a quella di un vero funambolo questa peculiarità è dovuta principalmente al fatto che la velocità di conduzione degli stimoli nervosi al cervello è di molto superiore a quella dell'uomo il gatto inoltre usa la coda per controbilanciare il proprio peso esattamente come fa un funambolo con una pertica movimenti silenziosi e furtivi i felini possono muoversi furtivamente come ninja perfettamente addestrati i cuscinetti che coprono e proteggono le loro zampe anteriori e posteriori combinati con le loro unghie retrattili consentono loro di camminare e correre tranquillamente sono capacità di adattamento sviluppate durante l'evoluzione della specie l'obiettivo di questa capacità è riuscire ad avvicinarsi alla preda e raggiungerla senza essere notati eccellente visione notturna i gatti hanno una visione notturna molto sviluppata poiché si sono evoluti per essere in grado di cacciare di notte la struttura oculare è diversa dalla nostra ed è predisposta per vedere meglio anche con le luci più deboli d'altra parte la visione diurna non è così buona quando le cellule dei loro occhi sono soggette alla luce intensa non possono trasmettere informazioni dettagliate al cervello pertanto per i gatti le immagini sono più sfocate durante il giorno e molto nitide di notte scoprini di più sulla visione dei gatti nel video che ti abbiamo preparato lingua multiuso la lingua dei gatti ha una consistenza molto più ruvida di quella dei cani o della nostra questo perché le loro papille gustative hanno una struttura diversa sono papille coniche che formano uno strato di tessuto spinoso per questo motivo quando un gatto ci lecca ci ricorda il tocco della carta vetrata grazie a questa struttura i felini usano la lingua come un piccolo pennello spazzando via impurità e minuscole particelle della pelle e del pelo in questo modo riescono a rimanere puliti senza perdere lo strato di grasso che protegge il loro corpo inoltre anche il ph della loro saliva aiuta a mantenere il loro corpo pulito disinfettato ciò nonostante non dimenticare che il tuo felino deve essere vaccinato sverminato spazzolato periodicamente una scatola di cartone il giocattolo perfetto un gatto può divertirsi per ore e ore di seguito con questo semplice oggetto giocare a nascondino o semplicemente sentirsi al sicuro nel suo nuovo rifugio anche gli esseri umani abbiamo questa straordinaria capacità di divertirci con poco durante la nostra infanzia tuttavia tendiamo a perderlo con l'avanzare dell'età cogli l'occasione per recuperare il bambino che è in te e divertiti con il tuo felino scopri nel video che abbiamo preparato se i motivi per cui il tuo gatto ama le scatole udito e alfatto molto sviluppati i felini hanno un numero di cellule alfattive molto più elevato rispetto agli umani inoltre usano i baffi le ciglia i peli sotto il mento come sensori di movimento grazie a questo sono in grado di rivelare rapidamente prede femmine in calore cibo velenoso o in decomposizione i territori di altri gatti e possibili predatori per quanto riguarda la loro capacità auditiva i gatti possono sentire un'ampia gamma di frequenze anche suoni molto acuti sono in grado di percepire gli ultrasuoni fino a 40.000 hertz mentre gli esseri umani possono sentire solo circa 20 kHz inoltre i gatti possono muovere le orecchie per rilevare più facilmente la provenienza dei suoni e come i baffi i peli situati sul padiglione auricolare vivrano quando rivelano movimenti o rumori deboli tutto ciò consente è l'ora di percepire rapidamente la presenza di una preda o una possibile minaccia dici quale tra queste abilità del tuo gatto ti hanno sorpreso di più faccelo sapere nei commenti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti